Come dire, c'è la nozione di contemporaneità, cioè di la quale si traduce in questo, che abolisce questo tempo che si conta, che dice ci sono dieci miliardi di anni e invece si mette in una emozione di contemporaneità, in una situazione di contemporaneità rispetto all'evento che dovrebbe essere appunto lo spegnimento del sistema, l'esaurimento del sistema. Questa contemporaneità è appunto l'emozione, che non l'emozione epocalittica dell'uomo delle suburre che ha avuto nelle suburre occidentali, ha avuto a volte questa emozione della fine del tempo, del millennio.